Buongiorno. Potrebbe sembrare una situazione normale quella registrata con una telecamera nascosta da Federcontribuenti, in cui un cittadino si presenta in ricevitoria per scommettere. Solo che questa sala non è autorizzata dall'Agenzia Nazionale che regola il settore, quindi lo Stato italiano non vedrà nemmeno un euro di questa scommessa. Ricevitorie come quella ripresa incassano dai 3.000 ai 4.000 euro al giorno, denuncia Federcontribuenti. In Italia sono migliaia i centri come quello di Viareni, documentato dall'Associazione Veneta. A Padova, già nello scorso novembre, erano stati segnalati due centri abusivi che la finanza aveva chiuso. Questi sono centri totalmente abusivi. Attenzione, noi non vogliamo difendere le scommesse o i centri scommesse perché ne siamo totalmente in disaccordo, però almeno quelle che ci sono devono essere regolari e pagare regolarmente le tasse dello Stato italiano. In un periodo di crisi le scommesse aumentano, un mercato florido insomma, peccato che lo Stato italiano non veda un centesimo di questo fiume di denaro che finisce direttamente a Malta o in altri paradisi fiscali. Un'evasione che l'Associazione in difesa dei contribuenti stima in circa un milione di euro. E questi sono soldi che poi ci pesano a noi perché sono soldi ceduti dai cittadini italiani presi dallo Stato italiano e che vanno a finire a Malta o in Principato d'Andorra o in altri comunque centri creati ad hoc per questo tipo di attività.